Eh, quando si parla di chi è cresciuto con questa generazione, l'amore per questi FIFA è qualcosa che non va più via, perché sono speciali, sono giochi speciali. Amici, un saluto da Jackman e Max, benvenuti e bentrovati. Oggi andiamo avanti con la retrocarriera del Vicenza, abbiamo fatto solo dieci partiti in campionato e se ne aspettano tante altre. Vediamo dunque come andrà avanti, abbiamo ancora la possibilità di fare acquisti prossimamente. Pucchi, abbiamo contro il Bologna. Oh, il Bologna, bellissima squadra, li abbiamo tolto con l'Ivano, ma sono fortissimi lo stesso, quindi vediamo come va. Invito a rimanere sintonizzati e godervi la partita insieme a me. Antonioli, Mangoni, Paganin, Boselli, Paramatti, Marocchi, Ingeson, Cappioli, signori, Anderson, altri gran giocatore, Pompei, Contotoldo, Cleber, Viviani, Aiala, Morabito, Zauli, Mendes, Firmanio, Teo Colivano e Baba Angida. Ecco qua. Sono due bellissime formazioni a confronto. E comunque, signori, Anderson e Anderson. Sulla carta, le due squadre si equivalgono e potremmo assistere ad un incontro molto equilibrato. È ora di passare in diretta con lo stadio e con i nostri inviati, Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. Qui studio, voi stadio. I due tifosi riempiono lo stadio mentre Massimo Caputi è pronto per il suo commento pre-gara. Entrambe le formazioni sono votate all'attacco e penso che l'incontro verrà deciso da reparti offensivi. Grande passaggio. Mi era capitato di parlare dei vecchi FIFA con un ragazzo inglese che non è che li gioca, però... Eh, quando si parla di chi è cresciuto con questa generazione, l'amore per questi FIFA è qualcosa che non va più via. Perché sono speciali, questi giochi speciali, questi FIFA qua. 98, 99, 2000, 2001, vedete voi fino a quando volete... Ah, ho sbagliato qua. Babangida, ci siamo. Pallone rinviato dal portiere. Ah. Bologna, maglia bellissima, fatta bene. Fatta veramente bene. Palla passata. Non è che è bello vedere le maglie quando sono fatte bene? Palla lunga giocata alla pericola. Babangida che sprinterà con la sua velocità eccezionale. Vai, 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 vai. Siamo dovresti fermarlo. Gol! Babangida segna. Macchina da guerra con tutti i santi e qui. 5,99. È una macchina da guerra questo... Babangida. Babangida. Bucca in fondo la rete. Ecco il primo gol dell'incontro. Il punteggio è ora di 1-0. Troppo potente. Troppo potente. Eh, beh. Troppo potente per essere parata. Comunque veramente, anche la velocità hanno provato a fermarlo. Che gol. Che gran gol. Sapevo che Babangida in squadra sarebbe stato un perno. Guarda, non lo fermano. Non lo fermano. Niente da fare. Siamo in vantaggio con gol. Ok. La palla viene persa. La palla viene persa. Ops. Siamo. Guardate che azione. Sono contentissimo per questo gol in apertura di partita. Eh, bro. Stanno facendo dei bei giochetti di prestigio anche loro. Qua non volevo... Tiro che non impensarisce il portiere. Chi è che aveva chiesto... Jack, puoi fare un intervento sul portiere, sul FIFA 99? Potrei, ma... Buona copertura del difensore. Ma nel caso che vinco bene... Cioè, almeno due gol di scarto... E ragazzi, ti tiro. Purtroppo la palla non entra. E nel caso che metto un altro giocatore... Battuta la rimessa da gioco. Perché non vado di certo a falciarmi uno dei miei titolari. Però posso farlo, sì. Grande intervento. Ha difeso ottimamente in una situazione difficile. Palone rimesso in gioco. Porto. Intervento seguito il ricordo. Il tasto L1. Il trante, vai, ma vengida da qua. Quasi. Ragazzi che giocate oggi? Sarrabbia. Sarrabbia pure. Sarrabbia come. Ok. Bologna. Il portiere caccia l'invio. Non volevo perdere. Dall'intervento. Punito. Andiamoci siamo. Bell'azione. Ed è angolo. Bravo il portiere nella circostanza. Bravo il portiere nella circostanza. Bravo il portiere nella circostanza. Quasi gol. Mannaggia ragazzi, la mancata. Cioè, la sfiorata. Altro angolo. Andiamoci noi. Gol. Bolivano segna. Contro la sua ex padre. Gol dell'ex. È il modo in cui è arrivata. Mi sembra che l'abbia toccata qualcuno del Bologno. No. Sono contento che ha dato un gol a uno dei nostri. Ma non ha un cordone. Ma fa spesso il gioco. Buon controllo. Ok. Kleber ragazzi. Kleber. Se non la passasse sempre. Non è colpa sua. Mi riconosce il Sergio. Il primo tempo è ormai concluso. Il primo tempo è ormai concluso. Sì. Ok. Anche se non lo dice due volte. Ottima giocata. Pallone pericoloso allontanato da Lara. Siamo distranti. Ottimo passaggio. Bell'azione. E' ancora angolo ragazzi. Di anni e vincenze. Parata piuttosto difficile. Goal con Ivano di nuovo. Ha fatto partire una gran fucilata. Ottimazione. 3-0 contro il mitico Bologna. La gran fucilata che ha suscitato l'entusiasmo dei tifosi. E va bene così. Bel vantaggio. Non pensavo onestamente. Il Bologna sta giocando comunque bene. Il punteggio alla fine del primo tempo è di 3-0. Massimo con altri 45 minuti da giocare. Il divario potrebbe diventare ancora più pesante. 9-1. È una partita a senso unico fino a questo momento. Mi danno l'impressione di avere saldamente... Mi ho mangiato la frase. I giocatori rientrano in campo per disputare il secondo tempo. Calcio di inizio dal secondo tempo. E' bello. Di solito non gioco così bene ma... Potentissimo. Che sta andando bene. Paramatti. Attenzione. Pericoloso. Tiro potentissimo. Fortione. Certo. Polo para. Ops. Tempismo perfetto sul contrasto. Ottimo intervento. Ancora club. Buon movimento. Ingersson. Aia. Un bagliato tasto. Si nota. No. Vabbè. Questa non era quello che volevo fare. Chiaramente non era quello che volevo fare. Dettagli. E cosa ne pensate di questa partita? Fatemelo sapere. Quali giocatore del Bologna ha corretto con più passione. Per il resto invito come sempre a chi vuole. A lasciare un like al video. Un mi piace. Posso portare il progetto. Il canale. E ovviamente il retro gaming. In generale. Ne guadagna sempre. E mi favorirà altri buoni titoli retro gaming. Ne consigliate. Anche non miei. Bella azione. Penso che non abbia atteso. A me ne ha dato tantissimi. Di video retro gaming. Intanto scopo dei bei canali. Devo dire. Rimesso in gioco battuta. Sarà perché di porto. Sarà perché di guardo. Prendono il possesso di palla. Ci siamo. Bel passaggio. Allontana il pallone. Ci siamo. Ci siamo. Bella azione questa. Ma non ce la fa più correre. Avete visto. Facciamo una cosa. Sostituzione. Toglierò. Toglierò. Otero. Questa volta. Ci metto in campo di Napoli. Ci metto in campo di Napoli. Tongo Otero. Che comunque è giocatore a sinistra. Di Napoli dovrebbe avere il numero 9. se l'ho visto bene. Ok. Palla passata. Andiamo. Quando entrerà. Attenzione. Pericolo. Bologna c'è. Firmani. Firmani. Paramatti. Bell'azione. Mi ha lasciato spazio. Si riconquista la palla vagante. Bologna che ci crede ancora. Niente da fare. È amoroso. Non ci ti ricordo. Non ci salva. Ottimo intervento del portiere. L'attaccante si dispera. Probabilmente pensava di avere più tempo. Ma il portiere è stato bravo. Con fortuna aveva una palla lontana dal piede. Mi sono salvato così. Ma Bangida? Bangida. Guardate ragazzi come corre. Ma Bangida. Ah. Aveva falciato. Fermato. Aveva falciato. Marocchi. Ok. Niente da fare. Chi sarà il primo a prenderla? Non i miei. Non i miei. Buon controllo. Ok. Oliva Novo. Niente da fare. Prova Gida di nuovo. Niente da fare. Gioca bene. Ottimo controllo di palla. Proviamo sulla fascia sinistra. Ok. È nostro. Poi abbiamo il nostro cambio. E su Broselli entra Rinaldi. E qua abbiamo il nostro intervento. Esce Roltero. Splendido tackle. Mette di Napoli. Un bel giocatore. Signori. Attenzione. Non abbiamo più attaccato le seconde lingue. contrastanti sulle due panchine mentre l'incontro volge al parata dei gran classi del portiere. Fondo continua a salvare la nostra porta. Sì. Ottimo intervento del portiere. Non so quale volte dove non si riesce a tenere la palla. E' andato decisamente sulla palla. Adalo. In Napoli. Potrebbe essere fresco ma non lo vedo scorrere. Marocchi. Teckel piuttosto duro. Ci starebbe bene il cartellino giallo. Ho visto anch'io un intervento. Non da poco. Sbaglia. Porta quasi vuoto. Probabilmente non l'ha vista bene. Finisce così. Finisce così. Colivano uom partita. Giustamente. Una gara più chiusa? No. Beh. In effetti. Però. Sono contento di com'è andata. Fatevi vedere. E ancora una volta. Va a ballgire. Colivano. Colivano. Per tutto il periodo tempo. Tre gol. Importantissimi. Tre punti importanti. Adesso non so quanto siamo andati avanti in classifica. Ma di certo. È un'ottima vittoria. Ci serviva. Ci serviva dopo. Purtroppo. Il blocco che abbiamo avuto di recente. Vediamo un po'. Beh. È comunque già un terzo posto. Con l'Inter. Era raggiungibile al momento. Era raggiungibile. Avranno tutti un calo di prestazioni. Come sempre accadeva. Vediamo un po'. Allora. Risultati. Bologna-Vicenza. Inter aveva vinto 2-0. C'è un po' di intero. Bologna-Vicenza 0-3. Perugia-Roma 2-2. Piacenza-Fiorentina 1-0. Milan-Parma 0-0. Udinese-Serentano 1-1. Juventus-Udinese 2-1. Parma-Bologna 2-1. Fiorentina-Perugia 1-0. Inter-Piacenza 0-1. Clamorosa questa. Questa ci serve. Questa disfatta dell'Inter. Ci serve. Siamo in Doria-Cagliari 1-0. E Vicenza-Lazio. E Vicenza-Lazio. E' un battafrontato la Roma. E ora ci dobbiamo affrontare a Lazio. Vi saluto. E vi ringrazio per oggi è tutto. Buon prossimo giornale. A Giacomo e Maxi. Ciao. Ciao.